Steve si sposa. Il 43enne ex fidanzato di Elisabetta Canalis ha chiesto alla compagna Lux Wright di diventare sua moglie. È stato lui stesso a condividere la notizia sui social network, subito seguito dalla compagna che ha confermato la notizia delle nozze, augurandosi di poter trascorrere insieme a Steve il resto della sua vita. Steve e Lux stanno insieme dall'estate del 2017. La loro storia è stata ufficializzata fin da subito. Steve ha già altri due matrimoni alle spalle. Steve, conosciuto in Italia per il legame con Elisabetta Canalis, divenne famoso nei primi anni 2000 su MTV. È un comico e uno stuntman, noto per le esilaranti situazioni in cui è capace di cacciarsi. È accaduto in più di un'occasione che l'uomo si facesse seriamente male durante alcuni dei suoi scherzi. Sono numerosi gli show televisivi e radiofonici cui ha preso parte, e altrettanto numerosi i reality che si sono freggiati della sua presenza. Nel 2008 fu arrestato perché ritenuto colpevole di possesso di cocaina. Fu rilasciato sotto la garanzia che avrebbe affrontato un programma di recupero. Era il 2012 quando Steve incontrò Elisabetta Canalis, conquistandola. L'ex velina, ormai trasferitasi a Los Angeles, era raduce dalla storia d'amore durata due anni con George Clooney. Elisabetta lo definì come la storia più importante della sua vita. Nell'ottobre del 2012 la loro storia terminò e fu proprio Elisabetta a comunicarlo via Twitter. Pur senza svelare mai le ragioni della rottura, lasciò intendere di essere stata tradita. Ci abbiamo ripensato entrambi. Sono una gran rompiballe, attaccata alle mie abitudini e attratta da uomini insensibili, egocentrici e traditori. Chi se ne frega.